buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi un video un po diverso degli altri se avrò l'occasione di avere altro materiale in test più di uno più di un oggetto come in questo caso farò un video del genere questo è solo un video di presentazione penso di pubblicarlo lunedì in genere lunedì perché poi mi porta avanti con i test che farò durante il giovedì delle settimane seguenti allora ho in test due articoli veramente interessanti ho questo potatore telescopico che arriva a 2,20 metri batterie con batterie da 4 ampere e soprattutto ho questa cosa qui questo oggettino qui che dico la verità non ho mai utilizzato e sono più curioso di voi di provare questo è il rotocut è un accessorio brevettato è italiano e promette di trasformare la fresa del motocoltivatore o del moto zappa nel mio caso il motocoltivatore in una trincia quindi da poter fare frese trincia tutto in un solo passaggio ho visto molti video anche quelli della casa madre sono veramente interessanti ho visto che lavora con erba molto alta e questo sistema permette di non far incastrare l'erba sulle lame della moto zappa o del motocoltivatore in questo caso insomma della fresa sono veramente curioso questo lo proveremo fra un paio di settimane questo invece mi metto a provarlo subito e questi due articoli mi sono stati gentilmente imprestati da bazar giusto punto it il terzo articolo in prova e questo è un articolo che dovrebbe uscire nel giro di pochi giorni e il riserva trazionato blackstone sp 530 deluxe che fa parte già della linea semiprofessionale lo acquisterò e ce l'ho in prova ma lo acquisterò e quello mi è stato fornito gentilmente da agrieuro che ringrazio è molto interessante come riserva in quanto è in acciaio smaltato ha il variatore di velocità cosa che non hanno tutti ha la possibilità di fare raccolta col cestello posteriore il mulching scarico laterale e scarico posteriore anche quell'articolo l'ho provato già nel campo lo sto continuando a provare fa paura vi dico soltanto che lo sto usando come sfalcio pesante su erba alta e inarrestabile lo fermano soltanto gli avvallamenti dove poverino non ci può arrivare ma fa ben più di quello che promette bene spero di aver ottenuto la vostra attenzione con questi tre oggettini che ho in test sono veramente curioso e contento di portare avanti questo discorso delle recensioni vedo che a voi piacciono io mi diverto come un bambino è una grande sarà giochi per me quindi le impressioni che ottengo ve le riporto pari pari non ci sono filtri quello che mi piace lo dico quello che non mi piace ve lo dico ugualmente e sono curioso di vedere come funzionano questi due attrezzini qua mentre l'altro so già che funziona molto bene dai ci vediamo giovedì prossimo con uno dei primi articoli spero se non giovedì dopo dai vi auguro una buona giornata ci vediamo prestissimo